benvenuti a una nuova puntata dedicata al nostro grandissimo il più santo dei santi patrono e protettore nostro e di tutta la santa chiesa cattolica oggi con l'aiuto del signore ecco iniziamo un come dire una nuova fonte delle nostre meditazioni un nuovo argomento di meditazioni tratti da un santo abbastanza contemporaneo è morto una quarantina d'anni fa circa e che ha molto approfondito la figura la spiritualità di san giuseppe facendone anche diciamo uno dei cardini della spiritualità di quella particolare forma di vita ecclesiale non saprei come altro definirla perché non è un movimento a cui ha dato vita sto parlando molti erano già capito di san cos'è maria scriva che ha fondato questa particolare realtà ecclesiale ripeto la chiamo così non sapendo come fare diversamente che appunto l'opus dei è dedicata nell'intenzione del fondatore a fondamentalmente ai laici ecco e quindi e ai sacerdoti secolari per insegnare come ci si santifica nel mondo e come si santifica il mondo quindi attraverso le realtà umane in particolare ovviamente ma non solo attraverso e la santificazione nel lavoro e del lavoro per una forma diciamo così di spiritualità e laicale e secolare io quando penso a san cos'è maria scriva e mi viene subito in mente la filotea di san francesco di salle cioè lui ha cercato diciamo così di attualizzare nel ventesimo secolo ecco un progetto intuito dal grande vescovo di ginevra dottore della chiesa e appunto san francesco di salle che in tempi molto molto lontani quindi quando si pensava che la santità fosse appannaggio di alcune categorie ristrette di persone quindi religiosi religiose fondamentalmente frati monaci e monache e qualche prete ma non troppo insomma ecco perché i preti sono sempre un po più sciagurati e lui no insistette sulla possibilità e la necessità che tutti si santificassero però ciascuno nel modo proprio dato che l'esperienza di san giuseppe come abbiamo avuto modo di vedere è stata un'esperienza certamente soprannaturale e divina ma nella forma e nei modi caratterizzata da un'immersione piena nelle realtà del secolo perché san giuseppe è stato un operaio uno sposo e un padre quindi ha assunto certamente in forma unica la sua missione di padre putativo del figlio di dio e di sposo castissimo di maria santissima ma dentro una cornice di assoluta diciamo così ordinarietà e quindi vicinanza alla stragrande maggioranza del del degli uomini e degli esseri umani quindi per questo che questa figura anche per questo certamente non solo per questo cos'è maria portava anche il nome no cos'è in spagnolo significa giuseppe quindi è chiaro che fosse rivolto di san giuseppe che era il suo patrono personale però indubbiamente questo è stato uno dei motivi principali per cui è stato particolarmente caro e quindi approfondite approfondito da questo autore ecco che oggi ci accompagnerà scritto un come dire una specie di puscoletto che si chiama nella bottega di giuseppe e che contiene una serie di considerazioni circa la figura di san giuseppe noi non vedremo tutte quante oggi perché è impossibile io vorrei fare prima una sintesi anzitutto san giuseppe nel vangelo poi un paragrafetto dedicato alla fede la speranza e l'amore poi ancora la santificazione vedete del lavoro e poi ancora per servire virgola servire poi capiremo quando arriveremo a questo punto che cosa intende infine il rapporto tra gesù e giuseppe io penso che ciascuno di questi argomenti li affronteremo nelle singole puntate in modo tale oggi cominciamo da san giuseppe nel vangelo dopo una breve introduzione argomento che già chi segue queste catechesi in parte abbiamo approfondito che non ci darà moltissimi ulteriori spunti però per rispetto diciamo alla struttura del di questa operetta del del santo è bene cominciare da questo comincia la lettura adesso del delle parole di san josé maria scriva la chiesa intera riconosce in san giuseppe il suo protettore patrono nel corso dei secoli si è parlato di lui sottolineando i vari aspetti della sua vita che lo mostrano costantemente fedele alla missione ricevuta da dio è per questo che da molti anni mi piace invocarlo con un titolo che mi sta a cuore padre e signore nostro san giuseppe è realmente un padre e signore che protegge e accompagna nel cammino terreno coloro che lo vennerano come protesse accompagnò gesù che cresceva e diveniva adulto dall'intimità con lui si scopre che il santo patriarca è maestro di vita interiore ci insegna infatti a conoscere gesù a convivere con lui a sentirci parte della famiglia di dio san giuseppe ci insegna tutto ciò apparendoci così come fu un uomo comune un padre di famiglia un lavoratore che si guadagna la vita con lo sforzo delle sue mani e anche questo fatto ha per noi un significato che è motivo di riflessione e gioia celebrando oggi la sua festa desidero rievocare la sua figura rifacendomi a quello che di luci dice il vangelo in modo da scoprire meglio quello che dio per mezzo della vita semplice dello sposo di maria ci vuol far conoscere sia matteo che luca ci parlano di san giuseppe come di un uomo che discende da una stirpe illustre quella di davide e salomone il re di israele i particolari storici di questa scendenza sono piuttosto incerte delle due genealogie riportate dagli evangelisti non sappiamo quale corrisponda a maria madre di gesù secondo la carne e quale a giuseppe padre di gesù secondo la legge degli ebrei non sappiamo nemmeno se la città natale di giuseppe sia betlemme dove si recò per il censimento o nazareth dove viveva e lavorava sappiamo invece che non era ricco era un lavoratore come milioni di uomini tutto il mondo esercitava il mestiere faticoso e umile che dio prendendo la nostra carne e volendo vivere per trent'anni come uno qualunque di noi aveva scelto per sé la sacra scrittura dice che giuseppe era artigiano alcuni padri aggiungono che fu falegname san giustino parlando della vita del lavoro di gesù dice che fabbricava aratri e giochi forse per queste parole santisitorio di siviglia conclude che giuseppe era fabbro comunque era un operaio che lavorava al servizio dei suoi concittadini con un'abilità manuale derivante da lunghi anni di sforzi e di sudore dai racconti evangelici risalta la grande personalità umana di san giuseppe in nessuna circostanza si dimostra un debole o un pavido dinanzi alla vita al contrario sa affrontare i problemi supera le situazioni difficili accetta con responsabilità e iniziativa i compiti che gli vengono affidati non sono d'accordo con il modo tradizionale di raffigurare san giuseppe come un vecchio anche se riconosco la buona intenzione di dare risalto alla verginità perpetua di maria io lo immagino giovane forte forse con qualche anno in più della madonna ma nella pienezza dell'età e delle forze fisiche per praticare la virtù della castità non c'è bisogno di attendere la vecchiaia o la perdita del vigore la purezza nasce dall'amore e non sono un ostacolo per l'amore puro la forza e la gioia della giovinezza erano giovani il cuore e il corpo di giuseppe quando contraste matrimonio con maria quando conobbe il mistero della sua maternità divina quando le visse accanto rispettando quell'integrità che dio affidava al mondo come uno dei segni della sua venuta tra gli uomini chi non è capace di capire tale amore vuol dire che sa ben poco del vero amore e che ignora totalmente il senso cristiano della castità giuseppe dunque era un artigiano della galilea un uomo come tanti altri e che cosa può attendersi dalla vita l'abitante di un villaggio sperduto come nazareth lavoro e null'altro che lavoro tutti i giorni sempre con lo stesso sforzo poi terminata la giornata una casa povera e piccola per ristorare le forze e ricominciare a lavorare il giorno dopo ma in ebraico il nome giuseppe significa dio aggiungerà dio infatti aggiunge alla vita santa di coloro che compiono la sua volontà una dimensione insospettata quella che dà valore a tutte le cose quella veramente importante quella divina alla vita umile santa di giuseppe dio aggiunse mi si permetta di parlare così la vita della vergine maria è quella di gesù nostro signore dio non si fa battere in generosità giuseppe poteva far sue le parole di maria sua sposa qui a fecit michi magna qui poten sest cioè grandi cose ha fatto in meno onnipotente qui a respect sit umidità dem perché ha guardato la mia piccolezza giuseppe era infatti un uomo comune su cui dio fece affidamento per operare cose grandi sepp vivere come voleva il signore in tutti i singoli eventi che composero la sua vita per questo la sacra scrittura loda giuseppe affermando che era giusto e nella lingua ebraico giusto vuol dire pio servitore reprensibile di dio esecutore della volontà divina significa anche buone caritatevole verso il prossimo in una parola il giusto è colui che ama dio e dimostra questo amore osservando i comandamenti orientando la vita intera al servizio degli uomini propri fratelli punti lentilissimi ascoltatori guardate per commentare queste parole ecco penso che bisognerebbe adesso caricare gli orologi e darci tre quattro ore di tempo io invece le commenterò nei rimanenti scarsi dieci minuti che ci sono rimasti perché poi il resto lo farà lo spirito santo sono tantissimi gli spunti di riflessione alcuni li abbiamo già visti no nelle puntate passate per esempio il fatto che san cos'è maria scrive su questo sono perfettamente d'accordo non approva affatto la rappresentazione di gesù come una di san giuseppe scusate con una persona vecchia e decrepita insomma che quindi è diventato completamente incapace anche di provare desideri di un certo tipo verso per verso qualcuno per questo è in realtà uno sminuimento della sua grandezza e non un accrescimento ed è anche occasione per dire qualcosa stupende poi vorrei spendere se ci riesco un paio di parole su quelle considerazioni dell'amore vero che fa san cos'è maria scriva e della possibilità della purezza anche in età giovane no quindi san giuseppe uomo perfettamente normale grande lavoratore ecco però e questo a testimonianza del fatto san giuseppe ha ricevuto a una certa età forse 30 anni forse 25 anni il dono di maria e poi di gesù no ma già prima di questo grande dono ecco il suo nome che significa dio aggiunge diciamo che queste aggiunte sono state come dire il premio della sua perfetta esecuzione della volontà di dio giusto questo avevo già considerato in ebraico vuol dire pio vuol dire servitore irreprensibile di dio esecutore della volontà divina e anche buono nei confronti del prossimo quindi san giuseppe era questo quindi vuol dire che un operaio faceva il falegname faceva il fabbro faceva il carpintiere quasi certamente faceva il falegname però questo non ha neanche tanta importanza non molte volte è nata betlemme non nata betlemme non fa niente era quasi certamente di stirpe regale qui le fonti a mia disposizione dicono che tutte e due sia giuseppe che maria erano di stirpe regale tutte e due quindi queste apparenti incongruenze delle genealogie evangeliche in realtà si compongono semplicemente nella nel nel fatto che entrambi erano di stirpe regale cosa tra l'altro quanto mai consola hanno nascito del figlio di dio no però la cosa importante è comprendere subito che un giovanotto un operaio già in quanto tale può essere un perfetto esecutore della volontà di dio ecco perché già il lavoro capite il lavoro manuale il lavoro quotidiano è volontà di dio perché gesù ad adamo ha detto ti guadagnerai il pane con il sudore della fronte quindi bisogna fare attenzione e gentilissimi ascoltatori e carissimi ascoltatori questo è un componente fondamentale della vita e ringraziamo l'opus dei per tutto quello che fa al riguardo no però la riscoperta dell'importanza del lavoro nella vita cristiana del loro fatto in un certo modo è patrimonio universale cioè i cristiani devono lavorare e lo vedremo poi più avanti da santi da santi vuol dire lavorare cioè gesù faceva gli aratri abbiamo sentito non gli aratri e i giochi ma secondo voi come sarà stato un aratro fatto da 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 gesù sarà stato fatto come dire a alla carlona si dice dalle nostre parti insomma a roma quindi un lavoro raffazzonato con due viti strette capito materiali scadenti o sarà stato un bell'aratro un bel gioco solido fatto con legno di una buona qualità rifinito curato perfetto bellevigato e non necessariamente perché era un aratro un gioco destinato a un ricco è un aratro un gioco perché ancora da un gioco di destinato a un povero capite può essere fatto in un certo modo sicuramente allora quindi è detto questo io vorrei ecco un attimo riprendere due aspetti e delle considerazioni sa cosa mi descriva che sono quelli che mi sembrano più consoni che sono ecco il problema della della purezza vorrei riprendere alcune considerazioni la purezza nasce dall'amore io lo dico sempre giovani l'amore autentico la sensualità che è il contrario della purezza voi capite che in quanto tale se non voglio farci una una catechesi no ma il piacere venereo è un piacere personale capite quindi il come dire il godimento di questo piacere anche quando venisse fatto dentro un rapporto di amore e di affetto nei confronti di un'altra persona il principio però di questo è sempre egoistico non può non essere tale perché la sensualità implica il godimento del corpo di qualcuno o del piacere che io conseguo attraverso il contatto con il corpo di qualcuno cercate di capire bene questo dicendo di per se stesso questa cosa è la negazione della dell'amore perché l'amore è sempre una relazione dall'io al tu cioè è un volere il bene tuo d'accordo è un volere che tu sia è un volere mettermi al tuo servizio è un volere farti felice quindi immaginate se san giuseppe se anche lui non fosse stato tutto quello che è stato incontra la madonna la madonna gli spiega tradizione antichissima che lei aveva fatto il voto di verginità da piccolina se san giuseppe vuole bene la madonna cosa fa rispetta questa cosa subito se la ama se non la rispetta non la ama mamma si stesso questo che dico sempre giovanotti dico e alle giovanotte soprattutto tu devi far rispettare e il rispetto che chi ti sta vicino a e deve avere è la prova del 9 del fatto che ha serie intenzioni e che almeno prova a volerti bene voi pensate a quanto sia satanica la frase che alcuni ragazzetti per violare le ragazzette dicono se mi ami dimostramelo dandomi quello che io voglio che è esattamente il modo con cui gli dimostra che non lo ama e che non esige di essere amata da lui esattamente il contrario quindi l'essere giovani sotto questo punto di vista è un aiuto perché da giovani noi ci abbiamo sempre grandi ideali mi ci metto pure io in mezzo sono un vecchierello di oltre 40 anni insomma grandi ideali volontà ferme perentorie determinate ecco e quindi si si possono e si devono guardate che sono un incanto io conosco alcune coppie di giovani che vivono tutte le esigenze della castità fino alle ultime conseguenze nel senso che non si dà neanche un bacio è neanche quello neanche quello e sono felicissimi e io sono sicurissimo che saranno dei matrimoni stra benedetti da da dio sanno aspettare sanno rimandare perché una volta che poi tu hai sancito questo dentro il sacramento del matrimonio che c'è stato un dono totale dell'uno all'altro allora che succede che tu crei un contesto oggettivo di amore che in un certo senso redime quell'atto che comunque rimarrà a carattere almeno in parte egoistico ma starà dentro una cornice autentica di amore certo perché tu ti sei legato a tempo indeterminato e messo al servizio di posizione di una vita l'altra piccola cosa che volevo rievidenziare era questo fatto che giuseppe poteva far sue le parole di maria sua sposa fecit michi magna qui poten sest quando noi ci mettiamo dentro l'orizzonte della volontà di dio e decidiamo di fare quello che lui vuole la nostra vita sarà sicuramente ricolmata di grazie qui a fecit michi magna qui poten sest e le grazie di dio vanno sempre al di là noi non diamo niente al signore se noi gli obbidiamo e facciamo in tutti i suoi voleri facciamo un regalo a noi stessi perché le grazie e le benedizioni di una vita che si mette dalla parte di dio sono innumerevoli nulla manca a coloro che lo temono dice un salmo lo temono nel senso che hanno paura ma lo temono in senso biblico cioè che lo amano ne osservano i voleri e i comandamenti in tutto e per tutto come ha fatto il grande san giuseppe vi do appuntamento se credete alla prossima settimana ave maria